Sono Cristiano Di Brodi, oggi sono uno di quelli del mondo digitale a fare un progetto, Vivere in Digitale, e il progetto che mi è piaciuto il più è Server Sicurezza. Ok, che cosa hai fatto oggi in questo progetto? Abbiamo creato dei siti web, delle applicazioni e abbiamo fatto dei giochi interattivi. Ok, avete utilizzato anche menti.com, quindi sei uno dei vincitori tu? Sì. Di quale dei tre moduli? Il terzo. Della Cyber Security. Che cosa ti è piaciuto di più della Cyber Security? Che cosa hai scoperto di nuovo? Che le mail possono essere scritte in modo diverso da quelle originali che mandano le varie aziende. Quindi di stare attento quando riceverai appunto delle mail false. Grazie.